Anche l'Unione Europea diventa a colori. La Commissione Europea infatti proporrà lunedì 25 gennaio agli Stati membri una modifica all'attuale mappatura delle zone epidemiologiche della pandemia di Covid-19, con l'introduzione di un nuovo colore, il rosso scuro, per le aree in cui la diffusione del virus è più alta e ci sono rischi maggiori che si trasmettano le nuove varianti apparsi a seguito delle sue mutazioni. Lo ha annunciato la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa online al termine della videoconferenza dei capi di Stato e di Governo dell'UE dedicata alla pandemia. Alle persone che viaggiano dalle zone rosso scuro, ha detto la Presidente della Commissione, potrebbe essere richiesto di fare dei test prima della partenza e anche di sottoporsi a quarantena dopo l'arrivo, questo all'interno dell'Unione Europea. La proposta riguarderà le misure da prendere alle frontiere che tuttavia non vengono chiuse, per evitare di danneggiare il mercato unico, bloccando i movimenti necessari di merci, di lavoratori essenziali e dei trasfrontalieri, ma scoraggiando fortemente tutti i movimenti non essenziali. Le zone epidemiologiche, ha spiegato For the Leyen, non concidono con gli Stati membri non solo delimitati dalle ex frontiere, che ormai non esistono più all'interno dell'UE e dello spazio di Schengen, ma possono comprendere aree omogenee di diversi paesi vicini, come ad esempio nel caso del Lussemburgo, dove ogni giorno vanno a lavorare persone che abitano negli Stati membri confinanti. Onmulti Atene Atru At Atene Atere Atete At 2006